E di nuovo buonasera dal gruppo dei artisti irpini, ancora qui a Borgo Castello a Calitri in provincia di Avellino per la mostra estetica, paesaggi, ritratti e astrattismo, Nicola Guarino, date ora, con Lontano da tutto, tecnica messa su tela 30x30 cm e subito qui a fianco troviamo Life, ovviamente Vita, tradotto dall'inglese, 30x30 cm Scorrendo ancora con i quadri, Valentina Guerra da Napoli, ai bambini venuti dal mare, tecnica mista 32x45 cm Poi estate, il risveglio della Naede e quindi questo incrocio tra bolle d'acqua e non solo Tecnica mista 30x40 cm, un'altra nostra vecchia conoscenza, una chiara di salvio da Tripalda La Spagnola, che abbiamo già trovato in una mostra qualche settimana fa ad Avellino, alla chiesa di Sant'Anna per il maggio dei monumenti, assieme a Pellegrino Capobianco, che tra poco inquadreremo, a Critico Suttile a 40x50 cm colori molto sgargianti della di salvio, tant'è vero che li ritroviamo anche nel quadro successivo dal titolo I frutti della vita Acrilico Suttile a 50x70 cm Passiamo quindi a Crinos, Pellegrino Capobianco con Donna di Drago, cover Acrilico Suttile a 70x50 cm, cerchiamo di inquadrarlo nel miglior modo possibile a causa del riflesso della luce Il corteggiamento delle anime, sempre di Pellegrino Capobianco, un 50x70 cm, quindi a misure invertite Rosita Nicolaio, dalla vicina Basilicata e soprattutto da Rionieri in Vulture, quindi veramente a pochi passi da Calitri con Mondo Interiore, 70x50 cm, acrilico e materia su tela quindi come nell'occhio si trovano tante altre sfaccettature della propria anima Ancora Rosita Nicolaio con Trovarsi, acrilico Suttile a 60x60 cm Gioca in casa Francesco Roselli perché c'è anche Alba Cianci che quindi è di Calitri con i miei colori Olio Suttile a 50x50 cm, ancora la Cianci con la chiesetta del Calvario, acrilico su pannello in legno quindi questa è una novità, 17x25 cm, evidentemente c'è un paesaggio invernale con alberi senza foglie e la neve intorno però con anche un cielo sereno e siamo alle battute finali con Gabriella Chiaradonna, la giovanissima artista di Montella la spiaggia alle Hawaii, acrilico Suttile a 50x70 cm e il desiderio, acrilico Suttile a 50x70 cm e allora continuiamo a esplorare questa mostra estetica, paesaggi, ritratti e astrattismo buonasera al gruppo di artisti grazie a tutti